un uomo oramai anziano e sazio di giorni si era accompagnato tutta la sua vita con il suo adorato cappello sazio di giorni ma ancora desideroso di vivere decise di utilizzare il suo cappello mettendosi all'angolo della strada lo tolse dalla testa lo rivolse e scrisse un biglietto all'interno del cappello chiunque passava si aspettava che la richiesta fosse qualche monetina ma all'interno del cappello non c'era scritto fare l'elemosina c'era invece scritto lasciare qualcuno dei tuoi giorni qual era la richiesta di questo uomo seppur anziano non ancora pago della vita voleva che il tempo che gli altri sprecavano lo lasciassero a lui e qui mi sonviene un testo della bibbia il salmo 90 al verso 12 recita signore insegnami a contare i miei giorni a volte sprechiamo tanto di quel tempo mentre ci sarebbero persone che vorrebbero un po di tempo in più da utilizzare meglio signore insegnaci a contare i nostri giorni